Marcello, eravate probabilmente ancora stanchi per le scorie di Coppa e della partita di sabato scorso forse nel primo tempo la vostra 6-0 ha fatto un po' acqua e questo ha scavato il solto decisivo, sei d'accordo? Ma è mancata la voglia di vincere, però ho visto un buon secondo tempo quindi a noi questo punteggio ci sta stretto, però comunque abbiamo lottato fino alla fine e si è visto anche una bella palla a mano Vi mancano tre punti per la sicurezza del secondo posto? Ancora ci sono due partite, abbiamo Ancona, sabato e mercoledì contro Secchia e si cercherà di vincere almeno una o comunque anche tutte e due Come mai non ha giocato Kazic oggi? Kazic ha un problema muscolare, quindi è tornato a casa a far sicurare Con il risultato di ieri sembra tornato in auge anche il Casarano, come vedi i play-off quest'anno? Siamo tutti allo stesso livello, chi più chi meno, comunque siamo quattro squadre di buon livello e quindi io prevedo un bellissimo play-off Grazie